Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi finalmente vi porto in quello che è il mondo delle impostazioni della telecamera su FIFA, su FIFA 21 in particolare, un video che mi avete chiesto in tanti, in live, anche negli altri video. Andiamo a parlare di quelle che sono un po' le impostazioni telecamere, diciamo, dei pro, se le vogliamo definire così. Una grossissima premessa che però voglio andare a fare è che, un po' come per i moduli, non esistono quelle che sono le telecamere, le impostazioni della telecamera, che vi faranno sicuramente vincere le partite, eccetera. Dovete trovare quella che è meglio, si va ad adattare al vostro stile di gioco e anche fondamentalmente a quella che è proprio la vostra abitudine. Quindi non dovete avere paura, se volete provare una telecamera, di perdere partite perché è fisiologico, perché la percezione del game è totalmente un'altra. Quindi, se volete provare, provate, ma senza affannare. Provatele e basta, prendetevi la cosa come viene. Una volta che ci avete fatto l'abitudine, vedrete che sicuramente non perderete più, anzi, troverete sicuramente vantaggio se l'impostazione che avete scelto va a favorire il vostro stile di gioco. Quindi, passiamo con la solita transizione in game ed eccoci qui, proprio su quella che è la schermata delle impostazioni di gioco. Partiamo da quella che è l'impostazione che utilizzo io e credo che sia la più facile in assoluto. Difatti, visuale multigiocatore io utilizzo predefinita, ragazzi. Che significa? La visuale che trovate una volta che mette il gioco dentro la console. Pulito, così, senza alcun artificio. Vedete, infatti, impostazione, visuale, predefinita, altezza 10, zoom 10. Penso, più facile di così non esiste. Perché utilizzo predefinita? Perché mi ci sono trovato bene, fin dal primo giorno al quale ho giocato a FIFA, ho provato altre, non mi ci trovo. Perché per il mio stile di gioco, basato su switch rapidissimi e tentativi di anticipo ai giocatori, ho bisogno di avere molto ben presente quelle che sono le distanze tra i reparti e tra i giocatori stessi. Quindi utilizzo predefinita per questo motivo ed è la visuale che utilizzano anche altri Pro. Non la utilizzo solo io, anche Gorilla, ad esempio, ho utilizzato predefinita nel tempo. Il mio amico Marco Tactual Strange su Xbox è un altro che utilizza predefinita. Passando a quelle che sono un po' più le telecamere utilizzate dai Pro, ovviamente, andiamo a vedere la prima. Ossia, aspettate che però in questo caso, visto che sono i Squad Battles, vi vado a modificare il giocatore singolo, la prima è tribuna stampa, tribuna stampa però con impostazione visuale, altezza 20 e zoom 0. Questa è una delle più classiche che potrete andare a ritrovare. Vedete, si tratta di una visuale di gioco, ovviamente, più dall'alto, che vi dà una visuale un po' più ampia rispetto a predefinita, ma comunque non troppo distante da quello che è il campo di gioco. E diciamo che questa è un'ottima visuale di gioco per chi ha uno stile di gioco improntato, sia sul possesso palla, ma che non disdegna anche quelle che sono skill, e giocate rapide, soprattutto in avanti e soprattutto nello stretto. Per quanto riguarda un'ulteriore impostazione che ho visto utilizzare sul tribuna stampa, abbiamo invece altezza visuale 15 e zoom sempre 0. Questa qui è ancora una via di mezzo, come potete vedere, diciamo, non sembra una predefinita, ma sembra una predefinita un po' più alta, diciamo così. Questa qui, ad esempio, è stata la visuale che ho utilizzato io per un certo periodo di tempo, non mi è dispiaciuta, se ve la devo dire tutta, però non ha fatto breccia, diciamo, nel mio cuore. Passando radicalmente ad un'altra impostazione diametralmente opposta, andiamo a vedere Coop. Per quanto riguarda Coop, qui ci sono varie scuole di pensiero, abbiamo chi utilizza Coop 1010, eccola qui, predefinita praticamente, vedete com'è molto più alta, tipica di chi utilizza un gioco basato su un possesso palla, estenuante la Coop, indipendentemente da quelli che sono i settaggi che andiamo ad applicare. Per quanto riguarda un'ulteriore personalizzazione che ho visto sulla Coop, si tratta di 15-8. Vedete che in questo caso siamo un po' più schiacciati, in questo caso, ma comunque siamo molto alti. Questa, per esempio, è una visuale che a me dà proprio fastidio usare, non lo so, mi dà proprio sui nervi agli occhi, non riesco. Un'ulteriore impostazione che si utilizza su Coop, che però è proprio l'apoteosi questa, e 20-0, ragazzi. Adesso vi faccio vedere cosa significa Coop 20-0. Praticamente state guardando la partita dall'ultimo anello del Camp Nou. Tipica impostazione per chi vuole vedere tutto il campo, per chi gioca molto di possesso palla e può fare queste belle sventagliate, essendo sicuro che il proprio terzino non è marcato. Prima o poi, vedrà, guardate qui, qui vedete tutti, vedete quello che si sta inserendo, quell'altro che arriva sotto. È una visuale questa che ha il suo perché, ha il suo fascino, ma, vi ripeto, a me non ha mai fatto impazzire più di tanto. Quindi, per quanto riguarda, diciamo, le più famose, diciamo così, sono queste. Un altro tipo di visuale, probabilmente l'ultimo, che anche questo è utilizzato, è classica. Classica non è altro che una predefinita, praticamente, ma ancora più schiacciata. Praticamente qui siete ancora più sul campo, è come se stesse guardando la partita della tribuna parterre dell'Olimpico, siete praticamente in campo, con una visuale un po' schiacciata. Questa telecamera è quella che usa attualmente Gorilla, quindi non proprio il primo che passa, ma anche qui. È un tipo di telecamera che va utilizzata da chi utilizza tante skill, gioca molto rapido e molto nello stretto, quello che fa appunto il buon Spensa Gorilla. È nuda, ragazzi. Per quanto riguarda le impostazioni della telecamera, quindi, vi ripeto, le più diffuse sono queste. Io, però, vi consiglio di trovare quella che meglio si addice al vostro stile di gioco, come ho fatto io alla fine, perché io alla fine utilizzo predefinita, che è quella un po' più inusuale all'interno del mondo dei pro. Fatemi sapere quale impostazione utilizzate voi, fatemi sapere se già le conoscevate, non le conoscevate, le proverete. Mi raccomando, lasciate like e commentate cose da youtuber. E' nuda, ragà. Io vi do appuntamento qui sul canale a un prossimo video e vi auguro una buona giornata. Ciao, ciao.